Il primo partito in semifinal, la cosa non è così facile come creiamo. In questo modo, oggi, secondo colocatore, ho cambiato completamente la formazione, completamente la recessione, al mazzo opposto che hanno attaccato dalla seconda linea, al final, bene, bene, bastante bene. Il balancio di questi due primi partiti non è buono. Il primo partito giochiamo malissimo, non mal, malissimo, e giochendo malissimo si poteva ganare, però, però, questo anno abbiamo giochato quattro tie-break e abbiamo perduto tutto. Perché? Perché il tie-break, l'importante sono, come si chiamano qui, pelotas, bene. Come parlava Velasco, nel tie-break, uno se tiene la cara della vacca, non gana, deve tenere la cara della tigre. A ieri teneremmo la cara della vacca. Questo è il resto del posto. A ieri gannavamo 2-0, senza essere, nada. Allora, dal 2-0 abbiamo perduto 3-2, con 25 errori, noi, errori sono, o errore al sacco, o attacchi fuori. E loro, 11. E, al final, 15-14 per noi, e loro non hanno toccato il balone. Un sacchi fuori, un attacchi fuori, e un attacchi fuori. E se tu giochi così, non puoi ganare. Come si presentano i due partiti soli in Ibiza? Boh, io non so se giochi a Bruca o se non giochi. Non lo so. Questa è una formazione, io questa formazione l'ho provata due giorni questa settimana, perché stavamo mirando che tenevamo problemi con Iazim e Aghe in ricezione. Con Roccamora tenevamo problemi in defensa e un po' in attacchi. Ho detto, proviamo questa formazione. E va. Non so, in Ibiza, come giocare. Tenevamo una settimana e miriamo. Che capacità come vanno a ganare? Ma guarda, nei priori si può di ganare, si può di perdere. L'importante è giocare. Non è ganare o perdere. Se tu non giochi, perdere. Non è che se tu giochi bene e il Ibiza gioca bene, ganiamo noi. Ma se il Ibiza gioca bene e noi a 100 perdiamo. Se giochiamo il Ibiza a 100 e noi a 50 come a ieri, si perde. Non spero di essere mai. Il Trenadono va in campo. Il Trenadono dice, blocchia la linea, viene, attaccano la linea, il blocchio sta a diagonale. No, a volte che è un Trenadoso e tiene una pistola matta. Io, ad esempio, hai un time out, dico, ora, salta, primo tempo e blocchia uno. Si, viene. Gioca in primo tempo, salta e blocchia a 100. Oggi quando l'equipo ha detto di Charlie, lo che ha detto di Charlie, è quando ha ganato il partito perché se no, va il partito. questo è l'equipo Coven, non hai uno che è accostumbrato a giugare. Siamo ganato la Coppa del Rei, hanno pensato che siamo forti, ma non siamo un'equipo forti, siamo un'equipo forti quando giochiamo bene. Perché non hai uno che ha ganato niente in questo equipo. Iazim, Iazim, ma Iazim non è come l'anno passato perché giugava col cammello, l'ovecca in Bahrain, col blocchio che era il mass grande era 1,50. A chi cambia? È normale, deve costumbrarsi. Miramo, lo so, miramo il futuro. Ora, l'importante è ganare la prossima se giochiamo bene se gana, se non giochiamo bene tenemo dosi e miramo. Grazie a tutti.